Alfa Romeo 8C Spider Tuning Emozionale firmato Novitec Anche l'Alfa Romeo 8C Spider attira l'attenzione dei tuner, in particolare quella di Novitec, che grazie ad un'esperienza pregressa fatta a commaserati sullo stesso propulsore V8 da 4700cc, può portare sulla sportivissima del biscione gli stessi accorgimenti tecnici impiegati sulla vettura del tridente. Ecco quindi arrivare anche qui un compressore, il quale permetta all'Alfa Romeo 8C Spider di incrementare i propri valori di coppia e potenza, che giungono ora rispettivamente a 588 Nm in 600 CV, il tutto finalizzato ad ottenere una punta velocistica di ben 305 km orari, giungendo inoltre ai 100 km orari con scatto da fermo in soli 3.9 secondi, mentre lo scarico in acciaio inox valorizza la voce del V8. Come spesso accade su vetture di questo genere, il look non viene stravolto durante il tuning, per non rovinare le linee armoniche, eleganti e sportive, che caratterizzano la bellissima Alfa Romeo 8C Spider. Pertanto, sul piano estetico, le uniche novità che troviamo sono costituite dai bellissimi cerchi in lega da 21 e 22 pollici a 5 razze sdoppiate di disegno Novitec, disponibili nella duplice colorazione nero opaco e argento. Non sono stati resi noti i dettagli tecnici inerenti all'assetto, ma è possibile che siano ora state impiegate delle sospensioni pluriregolabili, ancora ignoti invece i costi dell'elaborazione.